Perfetto, allora benvenuti a questa terza incontro settimanale in cui discuteremo delle lezioni di questa settimana e degli esercizi di laboratorio che vi abbiamo proposto. Come vi avevo indicato, già alcuni hanno cominciato a scrivere delle domande nella chat di gruppo e quindi io partirei direttamente con, stiamo affrontando i vari temi che proponete, appunto come sempre qui io cerco di non spiegare nulla di nuovo ma semplicemente di essere a disposizione per chiarire eventuali dubbi. Allora, la prima domanda, la leggo perché chi è entrato dopo non riesce a vedere i messaggi vecchi della chat. C'è un Riccardo che mi dice Volevo sapere se esiste una funzione per le wildcard pronta o se è necessario riscriverla ogni volta che serve. Allora, io la domanda in generale non ho tanto capito cosa intende, in generale immagino che però vi faccia riferimento alla richiesta che c'è nel laboratorio. Se mi senti, se mi puoi confermare se questa è la tua domanda, c'è il wildcard nella, esatto, perfetto, che era richiesta nel testo di esercizio. Allora, magari condivido lo schermo e tolgo la mia telecamera, così risparmiamo un pochino di banda e riusciamo a vedere qualcosa di più utile. Quindi stop video e condividiamo lo schermo, questo schermo qua. Ok, allora prendiamo il laboratorio, tecniche di programmazione, provo solo a mettere la chat in un posto in cui riesco a vederla. Scusate, perché ogni volta purtroppo Zoom sposta le cose. Ok, allora abbiamo materiale, laboratorio 2, che era quello nel quale che punto era? Ecco, l'esercizio opzionale è implementare la ricerca di una parola con wildcard. Quando una parola aliena compare il simbolo punto interrogativo, il carattere corrispondente può essere un carattere qualsiasi, eccetera, eccetera. Allora, in questo caso, diciamo così, poteva essere comodo fare un'operazione, un metodo di confronto ad hoc, in cui potevamo andare a confrontare carattere per carattere, le due stringhe, e controllare se nel primo carattere della prima string è uguale al primo carattere della seconda, e il secondo carattere della prima uguale al secondo della seconda e così via, a meno che nella prima non ci fosse un punto interrogativo, allora a questo punto la seconda è indifferente, indifferente in un certo senso, non la vado a guardare. E questo mi tengo un contatore che mi conti quante volte questo è successo, perché c'è la frasetta che dice, ha messo un solo punto interrogativo per ogni parola da cercare. Quindi, questo era relativamente semplice da fare, e ovviamente è una soluzione ad hoc, è una soluzione che vale bene, e che funziona solo per questo specifico esercizio. Ci sono due, un modo generale esiste per affrontare questi tipi di problemi, che è basato sulle regole d'expression. Le regole d'expression sono, tutto sommato, vediamo, expression Java, sono un costrutto del linguaggio, una serie di classi che stanno dentro java.util.regex che permettono in generale di fare dei confronti approssimati. Cioè, praticamente tu decidi qual è uno schema, uno schema possibile per accettare i tuoi confronti tra stringhe, e poi la libreria ci pensa lei a fare il confronto tra queste due. vediamo se c'è un esempio, se c'è un esempio qua comodo. Allora, le regole d'expression sono, come dicevo, il modo generale, no? Di fatto io definisco un pattern, e poi una classe che fa il matching, cioè il confronto, effettivamente. è un linguaggetto, diciamo così, no, qui non c'è un esempio, scusate, volevo prendere uno al volo. Così è più facile parlarne. Se ne trovassi uno. Ok. Ad esempio, qui fa vedere un esempio di un utilizzo della classe pattern, che dice, guarda, la stringa che tu mi hai passato corrisponde al pattern, cioè al schema specificato da questa, da questa regola d'expression, quindi una regola d'expression non è altro che una stringa che contiene dei caratteri speciali che hanno un significato speciale. In particolare il punto significa qualunque caratteri, quindi questa regola d'expression punto S significa una stringa di due caratteri, il cui primo è libero e il secondo deve essere per forza un S. E ci sono tutta una serie di operatori, ad esempio, come sono qua, per definire insiemi di caratteri, per definire il fatto che un carattere sia opzionale, un carattere oppure un gruppo di caratteri possa essere ripetuto, oppure opzionale o ripetuto, o ripetuto esattamente n volte, o almeno n volte e così via. Quindi può essere possibile creare, con questi operatori qua, cifre, stringhe, parole, eccetera, spazi, scusate, stringhe, parole, eccetera, è possibile creare un'espressione complessa che descrive quali sono le tipologie di stringhe che mi servono. E puoi usare il metodo di matching, quindi o il metodo matches del pattern, oppure c'è proprio una classe match, se devo ripetere più volte lo stesso pattern su più stringhe, e quindi lui mi dirà alla fine vero o falso, a seconda che la stringa che io gli passo corrisponde o non corrisponde al pattern. Questa è la situazione generale che mi chiedevi. In questo caso però non vale assolutamente la pena di mettere in piedi questo, anche perché una regola d'expression che dica che le due stringhe sono uguali a meno di un carattere, è molto complessa da scrivere, tutto sommato perché dovrei creare tutta una serie di, la prima lettera uguale oppure no, la seconda lettera uguale oppure no, e contare il massimo numero di differenze. Sarà molto più complicato creare una regola d'expression che non scrivere le quattro righe di codici che servono per contare questo. Tu mi dici se si dovesse usare più caratteri jolly diventerebbe complicato da gestire. A me non pare particolarmente, perché alla fine quello che io devo fare, almeno come la pensavo io, sarebbe una cosa di questo genere. Io ho le due stringhe, string diciamo così, pattern, che è uguale C, punto interrogativo O, e l'altra stringa che può essere la parola, che in questo caso diciamo che potrebbe essere ciao, potrebbe essere qualcos'altro che abbia una lettera diversa al terzo punto. Allora io quello che pensavo di fare sarebbe, io avrei due flag, quindi un int, un Buran che mi dice che sono diverse, ed inizialmente no. Poi avrei un intero che mi conta, diciamo, chiamano i punti interrogativi, inizialmente non ne ho visti. E qui ho poi il mio ciclo, ad esempio, int i uguale 0, i minore di pattern, punto length. Qui non sono dentro Eclipse, quindi è possibile che faccia qualche piccolo errore di sintassia, però per capirci. E poi all'interno del for controllerò se innanzitutto nel pattern c'è un punto interrogativo, quindi pattern.char at i è il punto interrogativo. Allora dirò che punti interrogativi più più. Ne ho trovato un altro. Altrimenti, se non è un pattern, se non è un punto interrogativo, andrò a controllare se i due caratteri sono uguali, se pattern punto char at i fosse per caso diverso da parola punto char at i alla stessa posizione. allora in questo caso se sono diversi diverse uguale true. Quindi io alla fine di questo ciclo for io avrò queste due informazioni. Quanti punti interrogativi ho visto nel pattern e quante lettere diverse ho incontrato ovviamente che non fossero nel punto interrogativo perché se vedete che se io trovo il punto interrogativo qui c'è un else i caratteri non li confronto neppure. e allora alla fine dovrò dire che a me interessa che diverse sia true ancora true or false non ho trovato parole diverse e contemporaneamente i punti interrogativi sia minore o uguale 1 in questo caso minore o uguale 1 quello che dicevi tu se ci fossero più caratteri giudici da gestire cioè più punti interrogativi nella stessa parola che fossero permessi basterebbe cambiare questo 1 qua non usarne più di 2 non usarne più di 3 se ci fossero invece altri criteri tipo il punto interrogativo sostituisce un carattere l'asterisco sostituisce una sequenza di più caratteri è chiaro che le cose si complicano di molto e allora conviene a questo punto creare la regular expression in questo caso la regular expression sarebbe ci punto o dove appunto significa un qualunque carattere allora questa qui diventa un pattern però dovrei trasformare la parola aliena nella regular expression corrispondente e fare un matching l'ultima cosa che volevo dire attenzione che tutto questo lavoro dobbiamo farlo solo se le stringhe hanno la stessa lunghezza cioè prima di tutto andiamo a confrontare se per caso pattern punto length fosse diverso da parola punto length allora di sicuro non sono uguali prima di andare a scoprirlo poi dopo perché io qui ho dato per scontato che pattern punto length mi desse i caratteri in posizione i sia in pattern che in parola perché avevo già pensato che le parole che le due stringhe devono essere di stessa lunghezza altrimenti non è pure senso fare il confronto non potranno mai essere uguali ok passiamo alla domanda successiva che allora Oscar mi dice nel punto 9 dell'esercizio libretto non abbiamo usato un iteratore perché non abbiamo usato un iteratore buona domanda la vera risposta è non l'abbiamo usato perché volevo far vedere l'eccezione che capita quando quando si cerca di cancellare qualche cosa credo sia questo non cancella molto scarsi che quando si cerca di cancellare qualche cosa dall'interno di una collection quindi un pretesto per farvi vedere l'anomalia in un certo senso allora in questo caso tu dici usiamo un iteratore allora perché usiamo un iteratore perché la classe iteratore ha il metodo remove non è implementato in tutte le collection però tendenzialmente c'è quindi in questo caso come si sarebbe potuta implementare come si sarebbe potuta realizzare dovrebbe essere semplicemente a questo punto io anziché iterare con il foro implicito che mi blocca la collection avrei potuto definire un iteratore iterator parametrizzato con voto iter uguale e questo iteratore lo inizializzo con la collection quindi in questo caso di punto voti punto iterator quindi ciò che sto facendo qui è chiedere alla collection dammi un iteratore che mi serva per lavorare sui tuoi elementi e questo iteratore è inizializzato al primo elemento e poi è in grado di diciamo così visitare tutti quelli successivi quindi finché l'iteratore ha un elemento successivo da visitare allora io vado ad analizzare quell'elemento quindi dunque dov'è l'elemento next ritorno al prossimo elemento remove remove the last element ritorno by this operator ok quindi allora a noi interessa questo metodo remove il metodo remove mi permette di cancellare un elemento anche se lo sto iterando e l'elemento che cancella è predefinito perché dice che cancella dalla collezione sottostante l'ultimo elemento che è stato ritornato da questo iteratore e ovviamente è stato ritornato col metodo next che è l'unico metodo che ritorna un valore quindi io posso dire voto v uguale iter.next quindi nel while mi sto chiedendo esistono ancora gli elementi su cui iterare sì se esistono dammi il prossimo e questa operazione next mi fa avanzare il iteratore e mi restituisce il prossimo elemento e a questo punto vado a fare il confronto se v.getVoto confronto di prima minore di 24 devo eliminare questo elemento e lo elimino chiedendo all'iteratore di rimuovere remove l'elemento che ha appena che ha appena trovato quindi questa è un'altra alternativa l'iteratore poiché sto parlando con l'iteratore che sta iterando sulla collection lui sa qual è l'elemento che sta cancellando e quindi non fa casino non fa confusione come invece sarebbe successo nell'altro caso quindi sicuramente lavorando esplicitamente con gli iteratori questo modo era un modo anche forse più compatto migliore anche più efficiente perché evitivo di fare una collection e poi sottrarla dalla prima è il metodo migliore per poterlo utilizzare quindi assolutamente sì l'altra indicazione di Oscar è che il metodo sort che io avevo commentato qua perché nella risoluzione indiretta dell'esercizio avevo detto ma accidenti questo metodo sort richiede assolutamente un comparator per poter ordinare gli elementi e non si può usare per ordinare gli elementi con l'ordinamento naturale ecco invece non è vero nel senso che nel caso di ordina percorso si poteva scrivere come dice Oscar .voti .sort passando come argomento null io mi ero perso questo dettaglio e grazie a Oscar per averlo segnalato effettivamente se leggiamo bene la documentazione dice ordina questa lista purtroppo non so se riesco scusate a ingrandire queste piccole finestrelle eccolo qua sì il testo in queste piccole finestrelle di documentazione e dice ordina la lista secondo il metodo definito dal comparatore che gli passo come parametro bla 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 e poi c'è la frasetta che non avevo visto e che Oscar ci ricorda se il comparatore specificato è null allora gli elementi vengono ordinati secondo l'ordine naturale ovviamente perché implementino il comparable quindi in questo caso questo era un modo alternativo di ottenere lo stesso risultato quindi possiamo dire nel caso se lo commento perché non la voglio ordinare due volte ma il primo caso è usare collection.sort e con un parametro solo è la collection e non c'è un secondo parametro ordinamento naturale oppure il metodo sort della lista stessa con parametro null se invece voglio ordinare con un criterio non naturale passo come secondo parametro dell'ordine per voto oppure come unico parametro della sort un oggetto di tipo comparator qualcuno mi ha fatto notare su YouTube che si può anche realizzare in modo più ancora più compatto usando una lambda usando una funzione anonima però io non la introdurrei ancora in questa fase a meno che voi non vogliate saperne di più però lasciamolo così se voi saperne di più se non ci sono altre domande magari riprendiamo questo argomento su come come evitare di costruire una classe per carità una classettina minuscola per usarla effettivamente una volta sola ma questo lo lascio in sospeso se abbiamo tempo alla fine magari lo riprendo poi abbiamo Matteo che mi dice volevo chiedere un chiarimento riguardo alla scelta del collection dei nostri programmi infatti generalmente avremo la possibilità di decidere quale vogliamo utilizzare a seconda di ciò che riteniamo più adeguato per il nostro programma assolutamente sì ma in serie di esame ci è richiesto di scegliere necessariamente la struttura più efficiente o resta sempre del tutto personale allora vabbè sicuramente la scelta non è una scelta personale perché per personale per simpatia per conoscenza o altro è una scelta che cerchiamo di fare in modo ragionato cioè mi serve adesso noi per ora conosciamo solamente le liste o poco più però avete già cominciato a vedere le mappe gli insiemi e a seconda di quello che io voglio ottenere userò un insieme se ho bisogno di eliminare i duplicati oppure una lista se ho bisogno di mantenere l'ordine una mappa se ho bisogno invece di mantenere delle relazioni e quindi la scelta va ragionata in funzione delle esigenze del programma così come voi non avete simpatie per una collection piuttosto che un'altra anche noi all'esame non abbiamo simpatie per una collection piuttosto che un'altra quindi non vi chiederemo mai usa assolutamente per forza una mappa questo fa parte della vostra progettazione se ritieni utile ritieni opportuno che in quel luogo in quel punto del programma ti serve una struttura di dati di un certo tipo sei liberissimo di usarla purché sia la scelta corretta quindi noi impariamo questo impariamo a valutare un codice un programma sulla base del risultato che ottiene non andiamo a vincolare troppo perché altrimenti lavorereste sotto dettatura adesso qui fai una lista che faccia questo poi fai un insieme che faccia quest'altro e così via no noi definiamo il problema e poi siete voi che potete scegliere con le conoscenze che avete con le conoscenze che acquisiremo insieme scegliete quali sono le soluzioni più ottimali quindi è chiaro che ci sono delle scelte sbagliate fate una scelta che vi crea dei pasticci cioè tipicamente se uno usa quello che si vede a volte quello che vediamo a volte all'esame sono persone che hanno imparato le liste e usano sempre solo comunque le liste ovunque e quindi ogni volta che devono magari trovare un elemento si mettono lì a fare cicli su cicli cicli annidati ogni volta per trovare l'elemento modificarlo eccetera eccetera allora questo sicuramente è un indice di non buona progettazione ma non perché non mi piacciono le liste ma perché in quel caso specifico non sono adatte altri invece vogliono fare gli sboroni come si dice e quindi dicono hanno imparato le mappe le mappe vediamo che servono per velocizzare alcune operazioni e quindi mappe ovunque ogni volta che fanno una lista fanno la mappa corrispondente se serve se è utile bene sì ma se è solo fatta per complicarsi la vita non è detto ricordate che ogni riga di codici che scrivete è una riga di codici che può essere sbagliata quindi c'è una certa economia da riuscire a gestire nella soluzione cerchiamo sempre di trovare la soluzione più semplice che risolve il problema nel modo adatto però la risposta secca alla domanda di Matteo è no noi non andiamo né a imporre una certa struttura data né a sindacare quello che avete realizzato purché ovviamente sia una struttura data adatta a risolvere il problema un commento di Oster che non avevo visto prima quali dei due modi è più efficiente per il sort assolutamente equivalenti nel senso che i vari metodi per chiamare il metodo di sort sono esattamente la stessa cosa alla fine sotto sotto vengono eseguite le stesse istruzioni lo stesso algoritmo di sort se vogliamo possiamo stare a vedere se per caso la new per creare un nuovo oggetto oppure passare questo parametro una funzione può farci perdere che ne so un centesimo di nanosecondo ma non ci interessa perché in realtà la complessità del tempo speso è quello dentro la funzione quindi il meccanismo di chiamata può essere leggermente diverso ma è anche talmente piccola questa differenza che è impossibile da misurare quando poi magari spendi mezzo secondo cento millisecondi a fare l'ordinamento vero e proprio non te ne frega niente di quanti nanosecondi quindi milionesimi di volte più piccoli hai speso per fare la chiamata alla funzione quindi non non mi preoccuperei di questo ciò che porta via tempo è cominciamo a cercare di pensare minimizziamo il numero di coppie di elementi il numero di volte che devo prendere gli elementi da una parte travasarli da un'altra ricopiarli creare i duplicati eccetera oppure iterare questo aggiunge complessità poi ci daremo anche dei piccoli strumenti per poter calcolare questa ordine di complessità ma con queste operazioni magari inutili di ricopia di dati o di lettura degli stessi dati che queste invece sono da evitare ma sul resto cerchiamo di la chiarezza e la concisione del programma sono più importanti che noi in nanosecondi ecco ok ci sono altre richieste domande suggerimenti se al momento non ci sono altre richieste mentre ci pensate allora come avevo promesso vi vi racconto come fare ad evitare di creare questa classe magari alcuni alcuni hanno già visto vedremo due modi diversi di farlo allora cosa succede nella funzione di sorting la definizione mi dice che io ci devo passare un comparator un oggetto tipo comparator un oggetto tipo comparator in java si può creare solamente se è una classe di tipo comparator cioè che implementa l'interfaccia comparator e quindi magari in tutto il programma intero mi serve solamente in questo punto avere questa classe avere questo oggetto in realtà mi serve un oggetto ma per poter creare un oggetto mi serve una classe e quindi mi devo creare una classe di cui mi devo anche inventare il nome e questa classe sarà visibile a tutti e va un pochino anche a a inquinare il mio progetto perché aggiunge informazione aggiunge aggiunge classi classi stupidina semplicissima e e c'è un modo per evitarlo sì c'è più di un modo per evitarlo un modo per evitarlo è mi faccio spazio diciamo beh usiamo l'altra l'altra versione quella breve quella è uguale usiamo il dis.voti dis.voti punto sort e anche qua ovviamente vuole un oggetto tipo comparator allora noi il modo classico per creare un oggetto è fare new su una classe ok è anche possibile creare un oggetto partendo da una classe anonima creiamo un oggetto partendo da un'interfaccia allora confronta voti per valutazione è una classe che implementa l'interfaccia comparator io qua dico senti dammi un oggetto non mi importa come si chiama purché implementi l'interfaccia comparator di voti e questo è strano nel senso che normalmente non posso fatemi aggiungere già punto utili punto comparator e la classe voto non voti e ovviamente questa mi dà errore perché la new mi dice guarda che comparator è un'interfaccia e non è una classe e quindi non te lo posso creare allora io posso dirti sì però creiamo una classe solo tra noi due solo per noi solo per adesso una classe che implementi questa interfaccia e di cui ti dico subito l'implementazione quindi anziché creare un altro file un'altra classe e poi creare un oggetto di questa classe dico a Java creami tu una classe temporanea anonima che poi buttiamo via che implementi questa interfaccia e questo come lo faccio? direttamente dove ci sarebbe la creazione dell'oggetto metto una coppia di parentesi graffe e qua ci metto l'implementazione della funzione quindi la funzione è fatta un'intera classe definita in line dentro un'espressione dentro un paio di parenti ritonde che poverini innocenti sono i parametri della funzione sort e infatti a questo punto lui mi dice questa sintassi mi dice crea una nuova classe che implementi questa interfaccia questi sono i parametri costruttori di questa nuova classe in uno di speciale parentesi graffe questo è il corpo della classe quindi vedete che il messaggio di errore se io non avessi le parentesi graffe è di un certo tipo mi dice guarda che non posso istanziare un comparator vuoto perché comparator vuoto non è una classe è un'interfaccia quindi non posso fare niente nel momento in cui metto le parentesi graffe lui capisce ciò che voglio fare capisce che voglio creare una classe anonima in line anonima perché non ha un nome in line perché è definita dentro la linea e infatti lui mi dice guarda che ho capito che vuoi fare ma la nuova classe comparator vuoto deve implementare i metodi il metodo compare essenzialmente e tu non lo stai implementando quindi lui dice ok io ti creo una classe però perlomeno devi implementare il metodo compare perché altrimenti non è una classe che implementa comparator su questo possiamo anche farci aiutare le clips clicco su aggiungi i metodi che mancano e quello che succede è che lui mi aggiunge qua dentro quindi dentro queste graffe che queste graffe sono quelle in cui definisco come è fatta la classe anonima che implementa comparator mi inserisce il metodo compare che devo aggiungere e a questo punto dovrò qui implementare il metodo di confronto che in questo caso era ricordate la differenza dei voti quindi in questo caso è o2 punto getvoto alla fine ci arriviamo qua meno o1 punto getvoto ok quindi è una sintesi un po' strana perché alla fine cosa succede noi chiamiamo un metodo tra i parametri di questo metodo normalmente abbiamo degli oggetti o dei riferimenti invece qua creiamo un nuovo oggetto un oggetto di una classe che non esiste ancora stiamo creando noi questa classe tra parenti di graffe e stiamo definendo i metodi di questa classe quindi dentro dove ci aspettavamo un numerino una reference abbiamo invece un'intera definizione di classe classe anonima in line questo funziona esattamente in modo equivalente a questo sotto non cambia nulla l'unica differenza è che questa classe confrontavoti per valutazione ha un nome quindi può essere richiamata più volte in più contesti questa classe non ha un nome e quindi viene usata qui viene usata creata usata per creare un oggetto con new e poi basta e poi viene dimenticata però in questo caso è diciamo utile per evitare di creare troppe classi quando io voglio semplicemente definire i metodi di criteri di confronto di criteri di uguaglianza eccetera eccetera quindi questo si vede molto spesso questo tipo di sintassi all'inizio ci spaventa un po' perché se potete vedere c'è un'aperta tonda poi le parentesi del costruttore poi l'aperta graffa della classe poi c'è il metodo parametri aperta graffa dell'implementazione del metodo chiusa graffa del metodo scusate qua chiusa graffa del metodo chiusa graffa della classe e chiusa tonda di chi? della chiamata assort questa tonda qui che ho aperto qui chiusa qui quindi la sintassi è un po' strana perché è la prima volta che vediamo una parentesi graffa all'interno di una parentesi tonda quindi all'inizio lascia un pochino perplessi ma poi ci si abitua facilmente e questo è il metodo delle diciamo così un comparator definito con anonimus 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 inline class l'altro modo comparato mettiamo la maiuscola l'altro modo è ancora più è ancora più sintetico che utilizza una sintassi per ora vediamo solamente come sintassi una sintassi ancora più diciamo così breve per definire questo tipo di di classi e questa sintassi è cosiddetta delle lambda quindi un comparator definito con una lambda function questo è un argomento di per sé abbastanza complesso noi lo semplifichiamo dicendo che in questi contesti è possibile definire un'intera classe di tipo funzionale c'è una classe che abbia un metodo solo in pratica perché purtroppo in java in altri linguaggi non succede ma in java non esistono le funzioni ma esistono solamente i metodi delle classi per cui tutta la programmazione funzionale che appunto si basa su questo concetto di lambda in cui però non abbiamo adesso il tempo di entrare e non fa parte del programma del corso si basa su funzioni applicate su funzioni e così via in java non esistono le funzioni da sole esistono solamente i metodi quindi si parte di classi di tipo funzionale c'è una classe che implementa un metodo solo e quindi è come se fosse una funzione e questo operatore freccia riassume la creazione di una classe che ha un metodo che implementa una sola cosa la faccio breve faccio l'esempio così vediamo come appare anche qua io ho bisogno di un comparatore il comparatore è un metodo che prende due oggetti o uno o due e restituisce un'espressione return o due punto getvoto meno uno punto getvoto qui cos'è che non gli piace re return c'è un audio troppo qua dove sarebbe l'assignment qua sort non riesco a trovare il motivo di questo errore scusatemi perché parlo del lato sinistro di un'assegnazione ma non c'è nessuna assegnazione questo è uguale qua scusatemi faccio confusione perché in un'altra cosa sto facendo javascript e quindi la sintassi è la doppia freccia non ricordo mai qual è la sintassi in java mi chiedo un attimo di pazienza di un'altra Grazie a tutti. Ok, allora è così. Ecco, scusate, vuoto. Ok, vorrei piacergli più così. Ok. Ok, allora, ci siamo. Scusate per la confusione, perché appunto ha usato il simbolo sbagliato, perché come dicevo in JavaScript si usa un simbolo diverso. Allora, questo simbolo freccia, che è l'operatore lambda, crea una funzione che accetta una classe, che ha un metodo solo, che accetta questi parametri, e avevo dimenticato di specificare il nome che ha causato tutti questi errori, il tipo che ha causato tutti questi errori, e che restituisce un certo risultato. Un risultato che normalmente viene definito sotto forma di espressione, oppure potrebbe quindi bastare una parentesi tonde per rappresentare il valore di questo risultato. Quindi questa, tutto questo, quindi questa frecciolina qua, mi riassume tutta questa sintassi. Mi semplifica tutta questa sintassi, dove non solo qui non ho il nome della classe, ma nell'operazione freccia non ho neppure il nome del metodo. Ciò che ho è i parametri e il risultato che viene ritornato dalla funzione. I parametri sono qui, e il risultato che viene ritornato dalla funzione. Come fa lui a sapere quale metodo creare e quale classe creare? Beh, lo sa perché sort si aspetta una classe di tipo comparator e comparator ha un metodo solo che si chiama compare. Queste cose sono sottintese e quindi Java riesce a costruirsi una classe che sarà un'implementazione di comparator e che implementerà un metodo compare e quindi devo semplicemente specificargli i parametri e i valori di ritorno di questo metodo compare. Quindi tutto funziona perché il metodo sort ha ben dichiarato qual è il tipo di parametro che vuole. e quindi lui sa che deve esattamente creare una classe di tipo comparator. Quindi la maggior parte di ciò che c'è scritto in questa definizione è desumibile, deducibile, semplicemente dal fatto che sort accetta solamente un parametro di tipo comparator. Quindi questa è la versione più breve di tutte che è semanticamente equivalente a questa però richiede appunto la comprensione di questo tipo di lambda function che è una parte, diciamo così, più recente del linguaggio Java da Java 1.8 in avanti. Infatti l'ultimo warning che mi ha dato Eclipse che poi ho, come così gli ho detto, di sistemare mi diceva guarda che questo operatore qua funziona solamente se tu dichiari che userai da Java 1.8 in avanti. Non so perché questo progetto fosse impostato con Java 1.7 e quindi prima mi dava errori che anche non avrebbe dovuto dare. Quindi questo comunque, a parte appunto la combinazione di fattori per cui non mi aspettavo di fare questo esempio ma l'abbiamo risolto e fa parte della normale risoluzione dei problemi. Scrivi una cosa e non ti funziona cerchi di capire perché. E questo però è l'altro modo più breve. A volte trovate il codice scritto così lo potete anche scrivere in questo modo l'importante è sapere cosa stiamo facendo. Come dicevo, questa è una versione molto semplice di quella che è la programmazione funzionale usata in un contesto molto specifico. Poi le cose possono essere più complesse. Ok. Riprendiamo quindi chiudiamo questa parentesi su questa diciamo così lascerei stare nel senso che non vi suggerisco né di approfondire a meno che non voi siete curiosi né di magari utilizzare queste cose ma sicuramente la parte delle funzioni anonime può tornare comoda per evitare appunto di creare come dicevamo prima 12.000 classi inutili. Andiamo avanti e c'è la domanda di Sonia che ci dice che nel laboratorio 3 dobbiamo far scegliere la lingua all'utente è notato in SimBuilder il controllo ChoiceBox dosiamo usare questo oppure quell'altro e come si utilizza? Allora JavaFX ha due controlli per ottenere questo tipo di cose. ha il ChoiceBox e che è questo ad esempio e poi abbiamo JavaFX ComboBox che sono due classi diverse allora proviamo a leggere cosa dicono e così cerchiamo di capire quale usare quale può essere suggerito da usare nei nostri casi allora ChoiceBox e ComboBox hanno due nomi simili e infatti ogni volta ci confondiamo guardate basta solo questo perché se lo vai si sovrappone alla finestra di zoom e non ci vedo più niente ChoiceBox e ComboBox sono appunto hanno nomi molto simili entrambi ovviamente sono dei control andiamo a vedere la definizione dice ChoiceBox viene usato per presentare all'utente un insieme relativamente piccolo di scelte predefinite da cui scegliere la ChoiceBox mostra all'utente queste scelte gli permette di selezionare esattamente una va bene e poi vabbè poi vi dice come usarlo aggiungere le varie scelte alla ChoiceBox la ComboBox è scritta in un modo più complicato però alla fine ti dice che c'è una pop-up list che è mostrata agli utenti che fornisce una scelta di elementi tra cui puoi scegliere e questa ComboBox aggiunge delle proprietà dell'API per cui l'elemento items diciamo definisce quali sono gli elementi che sono visualizzati ma questo era anche nell'altro caso e va avanti la vera differenza quindi se notate ComboBox è scritta e fornisce molti più dettagli rispetto a ChoiceBox dal punto di vista storico prima le prime versioni di JavaFX c'erano solamente le ChoiceBox erano oggetti semplici e va bene poi ad un certo punto introdotto le ComboBox in una versione successiva vedete 2.1 JavaFX come versione di introduzione mentre le ChoiceBox erano introdotte nella versione 2.0 che è la prima versione JavaFX in pratica perché la libreria che si chiamava JavaFX 1 faceva cose completamente diverse quindi questa è stata introdotta dopo ed è più potente più versatile e quindi è anche a volte più complessa da usare per le cose che servono a noi di fatto sono equivalenti la vera differenza è che è questa qua ComboBox internamente definisce e usa una ListView e questa ListView può contenere anche elementi diversi la ChoiceBox può contenere solamente stringhe punto cioè gli unici tipi di item che possiamo aggiungere sono delle stringhe mentre invece in una ComboBox è possibile aggiungere anche altri tipi di oggetti che poi vengono visualizzati per cui se noi volessimo fare una tendina dove c'è un testo con un'icona a fianco allora potremmo usare una ComboBox rispetto a una ChoiceBox posso anche dire personalmente che l'aspetto estetico di una ComboBox forse è un pochino più carino rispetto a una ChoiceBox noi ovviamente non andremo mai in questa cosa a personalizzare il contenuto della tendina a personalizzare l'aspetto grafico anche ovviamente se la ComboBox mi permette di farlo quindi per noi dal punto di vista funzionale cioè scegliere una voce tra un insieme di voci possibili sono assolutamente equivalenti possiamo usare una possiamo usare l'altra io mi abituerei a usare la ComboBox perché magari è quella un pochino più recente un pochino più potente anche se noi non stiamo usando tutta questa potenza ma dal punto di vista diciamo così operativo ciò che ci interessa è questa proprietà Value che mi dice qual è il valore selezionato dall'utente e la proprietà Items che mi dice quali sono le voci possibili che questa tendina contiene e la ComboBox se andiamo giù avrà anche lei la proprietà Items e in questo caso non ti fa vedere la proprietà Value perché è nascosta dentro il Selection Model ma si può comunque fare un Get Value anche se non descrive qua in questo elenco di metodi quindi si comportano per noi nello stesso modo ok direi che se la domanda era questa si può usare Choice Box oppure ComboBox sono i due modi migliori per far scegliere una voce all'utente e non farla reinserire lui la sceglie tra un elenco che è già predefinito ovviamente saremo noi che dovremmo preparare questo elenco predefinito è scorretto l'uso dello Split Menu Button lo Split Menu Button non credo di averlo mai usato ma non è un problema lo andiamo a cercare credo di immaginare cosa sia Split Menu Button JavaFX Split Menu Button sono quelli che ci troviamo in menu a selezione multiple fatemi scusate per aprire entrambi queste pagine vediamo qua così c'è anche l'esempio grafico mostra una lista di opzioni menu tra cui l'utente può scegliere ha un aspetto diverso chiaramente perché sembra un bottone da cliccare e poi o e può avere diciamo una tendina di apertura la vera differenza è che questo è un bottone e un bottone è cliccabile e quindi genera l'evento click l'evento on action è possibile settare un un gestore di event un event handler su questo su questo bottone quindi in questo senso posso scegliere una voce e poi però quando clicco genero un evento e quindi è come se facessi il bottone ok il bottone invia mentre invece in un in una choice box in una combo box prendiamo questo esempio qua sempre da questo signore che fa i tutorial ecco qua la differenza è che io semplicemente scelgo una voce scelgo una voce è come preparo un valore che poi verrà letto più tardi quindi è come se aveva una casa di test in una casa di test l'utente può scrivere ciò che vuole ma nel momento in cui lui scrive il controller non fa nulla non ha nulla da fare perché il controller farà solo qualcosa quando io schiaccio il bottone di invio e allora andrà a leggere che cosa c'è in quella casa di test una combo box funziona esattamente nello stesso modo questo speed menu button invece è diverso nel senso che io faccio delle scelte e poi sulla scelta che ho fatto creo un evento quindi dico al controller immediatamente l'utente ha scelto questo quindi in qualche modo collassa in due le due operazioni scegliere una voce e attivare il controller in questo caso quando noi dobbiamo compilare un form che contiene più campi più valori e poi solo alla fine quando li avrò tutti dovrò inviare diciamo attivare l'operazione allora ha più senso secondo me una combo box normale mi permette di scegliere il campo con calma e poi avrò un bottone di invio che lo conferma quindi come sempre sono comunque possibili le varie strade la soluzione più semplice è questa che non combina necessariamente con le due azioni di scelta e di invio questo controllo è pensato per generare eventi quest'altro scusate quest'altro è pensato per registrare un valore che poi può essere letto con calma ok andiamo avanti sulle domande quando nei testi del laboratorio successivamente all'esame non viene specificato qualcosa è lasciata a nostra discrezione assolutamente sì questa è la regola generale una specifica e ti dice devi fare una certa cosa ciò che non ti dice state interpretarlo e cercate di interpretarlo a vostro vantaggio cioè sempre cercando di trovare la soluzione più semplice più rapida e non andando a complicarvi la vita nel caso del live 2 data la parola a lì punto interrogativo no più parole potrebbero soddisfare la ricerca che potremmo scegliere sia di studiare tutte le traduzioni sia la prima che trova allora andiamo a questo punto a leggere il testo del laboratorio 2 implementare la ricerca di una parola con wildcard quando non è il carattere può essere qualsiasi in questo caso effettivamente non è chiarissimo il testo nel caso precedente andiamo a vedere a rifarci sto cercando proprio le parole con cui è scritto il testo package segmenti moduli non dice essenzialmente cosa fare nel caso in cui ci sia più di un match e quindi in questo caso è libero io in questo caso visto che ci sono le wildcard lo interpreterei dicendo restituiscimele tutte tanto alla fine non mi cambia nulla perché le devo comunque confrontare tutta una a una però effettivamente rileggendo nel senso che quando abbiamo scritto questo testo pensavamo così ce n'è più di una perché ho un carattere jolly e quindi possono essersi più traduzioni possibili però rileggendo il testo adesso che lo chiedi si può anche leggere in quel modo lì cioè non è scritto esplicitamente fare attenzione al caso in cui più parole aliene soddisfino il criterio di ricerca non vuol dire niente vuol dire renditi conto che esiste questo problema e decidi come gestirlo alla fine quindi tu puoi decidere di gestirlo dicendo le stampo tutte puoi decidere di gestirlo dicendo le stampo solo la prima potresti decidere di gestirlo dicendo stampo un errore perché perché magari ritengo che il criterio di ricerca non sia non sia sufficientemente preciso quindi in questo caso la regola generale però è quella che dici tu ciò che non è specificato con precisione è di scelta libera e su questo Oscar continua dicendo ma se c'è una traccia di soluzione dobbiamo seguire la traccia di soluzione oppure facciamo per conto nostro e poi eventualmente se ci perdiamo seguiamo la traccia allora vedrete che man mano che andiamo avanti nel corso queste tracce diventeranno meno precise meno dettagliate queste sono le prime esercitazioni questo è l'aborto delle due e quindi stiamo ancora un pochino prendendo le misure con gli strumenti con il modo di progettazione quindi cerchiamo di di guidarvi di più però ciò che fa fede è vedete che anche il testo viene proposta una traccia di soluzione è una proposta se voi volete accogliere questa proposta bene magari vi aiuta se voi vi sentite pronti a direttamente implementare sulla base della specifica tranquillamente lo potete fare man mano che andiamo avanti nel corso sarà sempre più importante la specifica iniziale e sarà sempre meno importante a un certo punto tenderà anche a scomparire questa traccia di soluzione quindi è solamente una guida iniziale che potete usare potete vedere come sono dei suggerimenti in un certo senso che se volete seguire bene altrimenti siete liberi di non farlo è chiaro che gli esercizi successivi fanno sempre riferimento all'implementazione della traccia perché ovviamente dovendo andare avanti noi andiamo avanti secondo un certo canovaccio però voi chiaramente quello che quello che conta sempre di più è cosa fa l'applicazione qual è il risultato finale poi questa applicazione dice il metodo ad word ad esempio nell'esercizio 2 quando parli del metodo ad word se tu magari non hai chiamato ad word perché l'hai implementato in modo diverso vabbè l'importante è il discorso di salvare eventuali traduzioni multiple allora questa è la funzionalità che ti serve poi che tu lo faccia con ad word o lo faccia in un altro modo perché non hai seguito la traccia è assolutamente equivalente l'importante è che ti permetta di salvare le traduzioni multiple ok c'è una domanda di Valeria che dice che cosa si intende come classe java bin allora esiste uno standard che si chiama proprio java bins specificato dalla documentazione ufficiale di java che dà tutta una serie di regole con la quale creare delle classi java ma per noi diciamo la usiamo in modo più in modo più semplice in modo più semplificato cioè non implementiamo tutte le regole che sono richieste e di fatto a volte ci scappa ancora la definizione java bin perché era un tipo di oggetti che potesse essere usati all'interno di un framework java enterprise ma qui stiamo parlando del passato però il nome è un pochino rimasto è quello che a volte chiamiamo anche pogio cioè planed planed old java object c'è un semplice oggetto java un java bin per noi è un oggetto che abbia come funzionalità principale quella di contenere dei dati quindi un oggetto che ha delle property private uno più dati privati tutti i metodi get set x e set x per tutte le property col nome giusto che ha definiti i metodi equals e hashcode definiti che se necessario se è ordinabile adefinisce il compare quindi implementa comparable quindi è un oggetto fatto bene e diciamo così se opportuno ma opzionale implementa toString cioè implementa tutti i metodi di gestione che ci si aspetta da un oggetto definiti ovviamente coerenti quando abbiamo parlato di tabelle di hash abbiamo visto con importanza che ha la regola generale che se due elementi sono equals devono avere hashcode uguale se rompete questa regola non funziona più niente in java e quindi implementa compare to in modo coerente con equals eccetera se opportuno implementa toString eccetera quindi per noi è un oggetto che normalmente può avere dei metodi di validazione ad esempio validazione può avere dei copy constructor o dei clone come abbiamo visto la volta scorsa quindi sono i metodi diciamo normali che ci aspettiamo che tutti gli oggetti debbano avere non c'è nessuna regola che dice che dobbiamo averli non c'è scritto nessuna parte nella specifica di java che ogni property che si chiama pippo devo fare un metodo get pippo ma è buona norma farlo c'è un oggetto fatto bene è un oggetto che ha queste caratteristiche che segue queste convenzioni la specifica di java beings in realtà aggiungeva tutta una serie di altri dettagli in più sulla tracciabilità di queste chiamate eccetera che noi non stiamo non abbiamo interesse di implementare però la usiamo così in forma semplificata in questo modo quindi intendiamo un oggetto che abbia i metodi suggeriti normalmente per le classi java per gli oggetti java con i nomi corretti che sono quelli che normalmente già Eclipse ci genera da soli se gli chiediamo di generarlo automaticamente quindi vuol dire semplicemente questo la vera caratteristica di un oggetto di questo genere è che non solo implementa i metodi suggeriti ma solitamente non ha metodi di logica logica applicativa cioè lui poverino contiene dei dati è in grado di gestirsi questi dati però non fa operazione non fa calcoli non fa algoritmi eccetera eccetera questo è quello che lo distingue da altri oggetti cioè tipicamente il model ha degli algoritmi gestisce dei dati poi questi dati come la classe voto che avevamo o la classe parola che avevate nell'esercizio 2 sono classi che di per sé non fanno nulla hanno semplicemente dei metodi per la gestione dei dati stessi magari li fanno confronto li valiano controllano che sia valido eccetera eccetera ma poi quella classe lì da sola non sa che cosa fa il programma non ti dice nulla di cosa fa il programma viene usata da altri e saranno gli altri che insomma la classe libretto tipicamente ad esempio nel nostro esempio che usa quella classe dato quel java bin quel poggio quell'oggetto java e sa che cosa deve farci sa come deve mettere insieme sa qual è la regola eccetera eccetera quindi ad esempio la validazione ci può stare nel costruttore che non costruisce un elemento o non lascia chiamare un setter se il voto è maggiore di 30 quindi questo fa parte della gestione del singolo dato ma poi a che cosa serve questo dato questa classe non lo sa quindi sono diciamo così gli elementi più più semplici di un programma ok la domanda successiva mi parla che serializable per quanto riguarda invece serializable oppure che il costruttore debba essere vuoto non allora lui dice che se tu vai a vedere la specifica dei java beans il fatto che un java bean debba essere serializable è una specifica in più a noi non serve il motivo per cui java beans da specifica java debbano implementare l'interfaccia serializable serializable l'interfaccia serializable implement serializable permette di serializzare un oggetto quindi prendere l'oggetto e convertirlo in una stringa stringa in un formato binario diciamo così dipendente dalla virtual machine java che poi può essere deserializzato in seguito e ricostruire l'oggetto è un po' come se voi prendete qualche cosa lo mettete ibernato in frigorifero e poi dopo cent'anni lo tirate fuori e volete ricostruire il vostro gatto vivo dopo che l'avete serializzato vivo nel senso che quell'oggetto nel momento in cui lo ricostituisco lo deserializzo non solo ha creato un nuovo oggetto ma questo oggetto avrà esattamente le stesse proprietà di prima gli stessi metodi di prima stesso valore delle proprietà di prima eccetera eccetera il motivo per cui java beans richiedevano questa proprietà per gli oggetti per gli oggetti che venivano definiti era che erano pensati come oggetti che si potessero spostare da un server all'altro in un'architettura distribuita quindi tu hai degli oggetti che magari girano su un computer poi quel computer per qualche motivo ha troppo carico allora una parte di elaborazione la vuoi spostare su un altro computer quindi devi spostare un oggetto da una macchina all'altra e spostare un oggetto da una macchina all'altra non si può perché chiaramente gli indirizzi di memoria sono diversi e quindi il trucco che hanno trovato stringa dall'altra parte e deserializzarlo quindi ricostituire l'oggetto dall'altra parte visto che noi non facciamo queste cose è inutile diciamo così dover implementare anche questa interfaccia questo resiguito in più non ci serve a nulla poi in realtà era un'interfaccia che non aveva metodi per cui semplicemente ti impediva di avere alcuni tipi di dato che non fossero internamente serializzabili quindi questo qua non ci serve per questo vi dicevo non seguiamo esattamente la specifica Java Bing perché non ci serve l'altra richiesta è quella di avere costruttore nullo vuoto void senza parametri anche questo era perché nel momento in cui tu hai degli oggetti che sono gestiti da un framework che li prende risposta li crea li distrugge questo framework deve avere la possibilità di creare un oggetto senza sapere come senza avere i parametri e quindi ti obbligavano ad avere almeno un costruttore senza parametri poi potrebbe avere quello con i tuoi parametri ma quello senza era obbligatorio anche a noi questo qua non ci serve perché le classi ce le creiamo quando ci serve non le facciamo creare da un framework di creazione quindi il costruttore senza parametri lo mettiamo se ci serve se è utile per noi altrimenti avremo un costruttore con parametri che ci garantisce di avere un oggetto già inizializzato e non un oggetto creato ma non ancora inizializzato che è sempre una situazione un pochino brutta ambigua che può creare dei null point exception nel programma quindi queste parti qua della specifica Java Bing non le seguiamo perché non ci servono Federica mi chiede nel caso in cui dovessimo ordinare valori di tipo double nell'implementazione di compare dovremmo mettere anche degli if per evitare arrotondamenti errati usare una function una classe anonima diventerebbe pesante quindi è meglio creare una classe a parte allora qui sono in realtà due domande in una la prima non ho proprio capito perché tu dovresti mettere degli if per evitare degli arrotondamenti errati cioè dei double li confronti facendo una sottrazione ordinare per ordinare gli elementi ti interessa solamente il maggiore o il minore quindi il discorso dei arrotondamenti onestamente non lo capisco quindi se magari mi vuoi chiarire però l'altra parte della domanda invece dici guarda che io però a volte se uso una lambda o se uso una funzione anonima questa diventa troppo lunga quindi il codice diventa complicato posso fare una classe a parte certo io vi ho detto che sono varie possibilità usate quella che preferite so che un pochino vi sembra strano questa frase che io continuo a dire usate la soluzione che preferite ma qui siamo in un corso in cui cominciamo a fare effettivamente progettazione non a seguire delle regole definite quindi l'importante è che voi conosciate gli strumenti possibili e poi scegliete quale strumento va meglio per voi in realtà esiste ancora un quarto strumento che non vi ho fatto vedere prima me lo fai venire in mente adesso e c'è la possibilità di creare una classe quindi tu stai dicendo dove siamo stai dicendo ma se qua dentro anziché un'istruzione sola ne avessi 5 o 6 righe poi veramente concordo assolutamente con te non si capisce più nulla nel codice perché non sai più se sei dentro l'oggetto se sei dentro il comparatore se sei dentro il metodo eccetera eccetera però una classe esterna non la voglio fare e quindi quello che potrei fare è una classe annidata quindi potrei fare una classe privata all'interno della definizione di classe libretto posso definire una nuova classe privata quindi può essere vista solamente dall'interno di libretto classe e compara per voto confronta per voto per voto implement ovviamente comparable comparator di voto questo ovviamente implementerà i metodi che devono e quindi il metodo compare e quindi ritornerà o 2 punto get voto meno o 1 punto get voto e quindi esattamente come questa quella esterna solo che è una classe interna annidata in questo caso si chiama nested class classe annidata all'interno di un'altra in questo caso è una classe annidata privata nested private class non è anonima perché ha un nome ma questo nome è solamente accessibile dentro il libretto quindi questa classe si chiama libretto punto confronta per voto infatti guardate il nome di questo metodo che viene scritto qua se riesco a farlo stare fermo lo chiama libretto model libretto punto confronta per voto libretto punto confronta per voto quindi questo confronto per voto è dentro libretto in certo senso e quindi posso usare questa quindi in questo modo ho creato una classe vera ma non l'ho resa visibile a tutti l'ho solo resa diciamo così privata a questa classe ovviamente qua dentro la posso usare tranquillamente io mi perdo sempre il punto che ho fatto questi sort eccoli qua quindi potrebbe essere un comparator definito con nested function nested class e quindi a this punto voti punto sort di new confronta per voto che la classe interna quindi questa è l'altra soluzione possibile quattro soluzioni tutte equivalenti per ciò che ci serve scegliete quella che ritenete più comoda in cui vi trovate meglio in cui siete sicuri di non sbagliare eccetera eccetera leggo il chiarimento che mi hai fatto sul caso del double dovrò mettere perché il return deve essere un intero facendo il cast verrebbero rotondati a zero ho capito hai ragione hai ragione in questo caso devi fare tre if oppure no oppure no perché tu stai dicendo spieghiamolo anche a tutti tu stai dicendo se io come comparatore compare to quindi public int compare to di double other facessi return other meno this in questo caso non è un double double object chiamiamolo facciamo finta che sia un vuoto ok vuoto v e direi other punto get double supponiamo meno this punto get double che sarebbe fare la sottrazione come dici tu giustamente non funziona non funziona perché se io 3 punto 67 meno 1 punto 17 17 mi dà un valore che è maggiore di 0 giustamente però se fosse 3 virgola 67 meno 3 virgola 50 5 50 ovviamente è maggiore di 0 però quando faccio il return che deve essere un intero e quindi questo non lo posso sostituire dovrò mettere subitualmente un cast oppure se non lo metto subitualmente me lo fa lui me lo forza lui in realtà questa sottrazione che fa 0 punto quanto fa 17 quando la traduco in intero diventa 0 punto 0 e questa non è più uguale a 0 non è maggiore di 0 quindi questo è il problema che giustamente hai evidenziato e allora dice beh io non posso farlo lo devo dividere tra casi dovrò dividere questo non lo posso fare quindi dovrò dire se other punto get double maggiore di this punto get double ritorno 1 else if è minore ritorno meno 1 quindi if questa cosa qua è minore ritorno meno 1 else ritorno 0 ok e questa è una soluzione corretta io però faccio un passo in più e mi chiedo ma sarò mica il primo al mondo ad aver avuto questo problema cioè non è che magari nella libreria Java c'è già qualcosa che internamente deve confrontare dei double è certo che c'è la classe double la classe double con la D maiuscola quindi in questo caso io quello che farei semplicemente è dire beh qualcuno questo problema l'ha risolto deleghiamo chi l'ha già risolto other punto get double lo trasformo in new double una classe un oggetto se per caso punto compare to this punto no scusate this this punto get double compare to other punto get double quindi dico allora nel caso in cui il metodo get double mi restituisca un double con la D minuscola quindi un numero primitivo da double ritorna un double con la D minuscola allora devo prendere questo numero che è un numero primitivo creare un oggetto double che ovviamente lo lo incapsula lo contiene e questo essendo un oggetto avrà un compare to e quindi chiamo compare to delego la classe double fai tu il lavoro se per caso il metodo get double ritornasse già una classe double con la D maiuscola quindi l'oggetto è il dato primitivo allora questo si semplifica ancora perché non devo neppure creare un nuovo oggetto double perché già ce l'ho quindi this punto get double che è un oggetto double con la D maiuscola ha già il metodo compare to quindi è vero che questo è giusto è vero che questo risolve questo problema ma è più comodo riusare qualche cosa che già c'è qualche cosa che è già fatto poi come chi ha implementato la classe double ha implementato il suo compare to sono fatti i suoi ma di sicuro funziona e quindi in questo caso sono ritornato ad avere una riga sola e quindi il tuo problema è un originario di avere troppe righe in questo caso non si pone non siamo sempre fortunati così di trovare esattamente già la funzione che ci serve però iniziamo a ragionare così qualcun altro nella libreria da qualche parte ci sarà già qualche cosa a cui posso fare riferimento e quindi costruisco su questo oppure devo scrivere tutto a codice questo è un po' lo sforzo che sto facendo in questo corso è quello di farvi obbligarvi diciamo così a farvi queste domande ok altri dubbi? altre richieste? commenti liberi difficoltà fame visto che si avvicina l'una va bene allora a questo punto se mancano se non c'è mancanza diciamo così di richieste di di chiarimento vi ricordo semplicemente il laboratorio di domani il laboratorio 3 che si svolgerà con le modalità delle volte scorse mi pare che la modalità di assistenza online e la pubblicazione delle FAQ credo che sia andata abbastanza bene se avete i commenti ovviamente sentitevi liberi di farli vi vedo un po' timidi su Telegram abbiamo creato il gruppo poi in realtà lo usate poco si va bene accucino alcune domande specifiche che sono sempre le benvenute però siate più liberi nello scrivere ciò che pensate anche non è un problema da questo punto di vista stiamo cercando di tenerci a contatto quella che è la domandina che normalmente ho il dubbio la curiosità o la richiesta che arriva nei 5 minuti alla fine della lezione facciamola facciamola tranquillamente online non c'è nessun problema se vi sentite per il resto appunto come dicevo non ci sono ulteriori domande quindi ci possiamo dare appuntamento per la settimana prossima sempre con questa modalità nel frattempo ovviamente arriveranno anche le lezioni video della settimana prossima dove cominceremo a lavorare con i database quindi finora abbiamo preso un minimo di dimestichezza con le interfacce grafiche abbiamo irrobustito un pochino la ginnicità nell'uso delle collection adesso cominciamo però siamo molto limitati dal fatto che i nostri programmi nel momento in cui finisce il programma perdiamo i dati quindi gli unici dati su cui il programma può lavorare sono solamente quei 4 dati che abbiamo inserito noi a mano e quindi per riuscire a superare questo limite ovviamente dovremmo riuscire a salvare questi dati in un database oppure far sì che il programma lavori su dati salvati in un database e quindi siano anche più numerosi anche dal punto di vista quantitativo quindi in previsione delle prossime lezioni se già non l'avete fatto mi raccomando di installare tutta la parte legata a MariaDB oppure MySQL che è compresa anche dentro XAMP quindi se per caso per il corso di reti di calcolatori applicazioni web avete già installato XAMP può già essere sufficiente e poi un'interfaccia grafica per accedere al database che può essere appunto ID SQL per chi lavora sotto Windows o SQL Pro per chi lavora sotto Mac in modo che quando vedremo i prossimi esercizi siate già pronti con il software installato per oggi direi possiamo salutarsi possiamo chiudere qui grazie a tutti e ci vediamo la settimana prossima e interrompi la registrazione baffa grazie a tutti